Aspettiamo un attimino Aspettiamo un attimino Che disgrazia è stata questa cosa Adesso ci sono Buonasera a tutti Aspettate che attivo i commenti Lo so che adesso Non lo so Vi chiedo perdono Per questo misunderstanding con YouTube Non ho capito bene Che cosa sia successo prima Mi metteva la miniatura Poi vedevo tutto il desktop Del telefonino Adesso va bene al 100% Quindi provo un attimino Buonasera a tutti Provo un attimino a girare la telecamera Le madonne funzionano sempre Aspettiamo un attimino Mi dispiace che Vi ho causato un po' di ritardo Abbiamo perso già 10 minuti Spero che non abbiamo perso nessuno strada facendo Adesso funziona bene Se avete qualunque colpa di Hello Kitty Sicuramente si Ciao Luca, buonasera a tutti Allora Questa sera Vado sulla falsa riga Sulla scia di quello che è stato l'ultimo Episodio del Cup Setup Che avete visto Anzi vi ringrazio perché è stato un video che Ha fatto un buon successo È stato divertente Per te Giovanni sicuramente Per me un po' meno Perché Ho avuto un momento di panico Non riuscivo a capire Ho dovuto riavviare il telefono Cioè non riuscivo più a uscire dalla diretta Quindi ho dovuto riavviare il telefono Adesso funziona Comunque poi dovrò sistemarla online Vediamo un attimino Buonasera anche a Leonardo Perdonate che ogni tanto Come perdo qualcuno Ma non è detto che mi arrivino Tutti i commenti Che fate Innanzitutto vi ringrazio Per essere qui State il bello della diretta Il brutto della diretta Perché oggettivamente Tutto mi aspettavo Tranne questo da YouTube Comunque Ciancio alle bande Bando alle ciance Visto che Siamo qui per parlare Di pesca E soprattutto di pesca in lago Ho visto Come vi dicevo prima Che C'è stato un buon successo Da parte del video Buonasera Massimiliano Del video che ho fatto La settimana scorsa Per la pesca in lago Se avete qualunque problema Nel sentirmi Nel capire quello che vi dico Scrivetelo Così perché non porto Il microfono stasera Quindi sto gestendo Tutto in autonomia Col telefonino Abbiamo visto Abbiamo parlato Del discorso relativo All'attrezzatura Ho volutamente Tralasciato il discorso Sulle mosche Da utilizzare in lago Proprio perché avevo in mente Di fare questa diretta Questa diretta Lo scopo della diretta Qual è? È interagire Ciao Dario Buonasera Buonasera Luigi Dicevo Lo scopo delle dirette Qual è? Perché potrei tranquillamente Mettere un video Vi dico già Sin da ora Che questa diretta Resterà Sul mio No guarda Non so Hai sbagliato canale Alberto Io so fighissimo Lo scopo di questa diretta Interagire con voi Perché almeno Se avete domande O cose da chiedere O curiosità O dubbi Potete scriverlo Io vi rispondo Altrimenti facevo Il classico video Di costruzione In cui metto la musichetta Metto la musichetta E poi Lo ripetete Cento volte Lo lascerò online Qui sotto Nella descrizione Vi metterò Come al solito Le ricette di montaggio Di tutti i dressing Parliamo subito Di pesca E andiamo a parlare Della pesca in lago I dressing Che io utilizzo in lago Fondamentalmente Sono quasi sempre Gli stessi Nel senso che Mi affido molto Alla mia scatola Che avete già visto Nel video Del setup Sulla pesca in lago La scatola Come avete visto E come già Mi riallaccio Buonasera Blackmore Buonasera Frank Io vi leggo Che come Vi scrivete La scatola È quella Che avete visto Già nel video Questa è la parte Che riguarda Il discorso Mosche Diciamo così Imitative E questa è la parte Che riguarda Invece I cosiddetti Attractors Eccola qua Allora Lo scopo Di questa Serata di costruzione Non è Farvi vedere Se io sono O meno bravo A costruire le mosche Perché Già non ha Alcun senso Come cosa Ciao Elio Buonasera Non ha Non ha Alcun senso Come cosa E invece Cercare di creare Un po' di Know how Di conoscenza Di questo Aspetto Della pesca in lago Perché Già normalmente Ciao Andrea Buonasera Già normalmente La pesca in lago D'inverno Quando non si va a trote Come ho già detto È una pesca Che ci consente Di pescare Continuare La nostra attività Senza dover Necessariamente Stare ore e ore E ore al molsetto Adesso Con Ciao Leonardo Adesso con il discorso De non si può muovere il comune Quello zona rossa Arancione Fucsia Blu verde Gialla Eccetera Allora Spesso I laghetti Sono veramente Ciao Roberto Sono veramente Il La fuga Dov'è possibile Poter pescare Allora Distinzione Che vi ho fatto Anche nel cap setup Per chi non l'ha visto L'ho andata a vedere Ma sono sicuro Che se state qui L'avete visto tutti quanti Mosche attrattive O mosche imitative Allora Cominciamo col parlare Delle mosche attrattive E mosche imitative Le mosche attrattive Sono quelle che Vengono utilizzate Su pesci di reazione Cioè ovvero Nel momento in cui I pesci Sono più freschi All'interno del Del lago Quindi sono reattivi E hanno voglia Un po' Tra virgolette Come si dice in gergo Di correre E inseguire E cacciare Degli artificiali Le mosche invece Imitative Sono quelle che Imitano Chironomi E tutti quegli insetti Che possono trovarsi All'interno del lago E che diventano Un nutrimento Dei pesci Dopo un tot di tempo Che stanno all'interno Del lago Perché tendono comunque Soprotutto Nei lachi noquillo Ovviamente Sto parlando Tendono a prendere Un comportamento normale Se non vengono Sfamate diversamente Tendono a prendere Un comportamento normale A mangiare gli insetti Questa sera Vi parlo di Tutte e due le categorie È spessata in due Sono svariati Dressing Un po' Più del solito Anche perché alcuni sono Abbastanza veloci Divisi tra Attractors E imitative Comincerò con gli attractors E finirò con Le cosiddette Imitative Vi ripeto Molti Soprattutto gli attractors Magari non sono Bellissimi da vedere Però vi posso garantire Che tutte queste mosche Che vi faccio vedere Questa sera Questi pattern Sono dressing Che utilizzo Regolarmente Quando vado a pesca Al laghetto Quindi provateli Con fiducia Sia nei colori Che nelle taglie Ovviamente io utilizzo sempre Una taglia un po' abbondante Al limite Della grandezza consentita Per questioni di video Potete anche scendere Un po' come taglia Questo lo dico sempre In tutti i miei video Perché non prendete Poco alla lettera La misura Cioè se dico Se faccio su un 10 Potete farla anche su un 12 Ci pesco anche sul 10 Ma può essere fatta Anche sul 12 O anche sul 14 Questo lo dico A scansio d'equivoce Nella descrizione del video Poi troverete ovviamente Tutte le ricette di montaggio Adesso visto che Alberto Si è lamentato Della mia facciona Cambio la telecamera Passo al morsetto Vedete solo Le mie mani E la mia voce Ma continuerò a leggervi Allora Un attimino Che sistemo La posizione Della telecamera Sperando che non faccia Fuoco sì Fuoco no Allora Sì Dovremmo esserci Se vi da fastidio La luce Possiamo anche Spostarla un po' Ma si dovrebbe vedere Abbastanza bene Buonasera Allora Andiamo a vedere Vedete ve lo sposto Un pochettino Andiamo a partire Con la prima Imitazione Chiamiamola così Imitazione Perché In realtà Imitazione Non è L'amo che vado A utilizzare Ciao Luigi È un amo Che Produce Flybox Distribuito da Textream È proprio Lo Spear blob La prima mosca Che vi vado a far vedere È il cosiddetto Fab Quello che viene chiamato In gergo Fab Il fab Abbreviato Vi ripeto Questi nomi li trovate Poi tutti Nella ricetta di montaggio Il fab È il cosiddetto Foam As Bubi Quindi il Bubi Che fondamentalmente Ha Il culetto In foam Questo è Tanto ho messo video Non dedicato ai bambini Quindi posso dire Qualche parolaccetta Per il discorso Dell'amo Questo è un 10 Ma vale quello Che vi ho detto In precedenza Filo di montaggio Per le prime mosche Utilizzerò sempre Lo stesso Ovvero Un fluo Hot orange Sempre di Textream Fermo Filo di montaggio Mosca Veramente Molto semplice Poi una volta Che l'ho finita Vi farò magari Qualche nota Di colore Su questo Tipo di Imitazioni Sto un po' Impiccata Perché Come sempre Ho il telefonino Fra me E Il morsetto Il Foam As Bubi Il Fab Come viene Abbreviato È caratterizzato Dalla presenza Di questo Foam Questo Cilindretto Di Foam Che potete Scegliere Di varie dimensioni Misure Colori Eccetera Nella parte Posteriore Dell'artificiale Questo Foam As Bubi Non è E' una mosca Che Chiamiamo la mosca Che viene utilizzata a caso Ma viene utilizzata Soprattutto Nei sistemi di sospensione Quando si utilizza Una coda Per lo più Affondante Quindi anche intermedia E si scende E c'è bisogno Di fare la cosiddetta Washing line Soprattutto magari Con i chironomi O mosche Attrattive In realtà Si utilizza molto spesso Ed è molto efficace Però Diciamo che nasce Con quell'esigenza Prendo questo Foam Lo vedete Ciao Eugenio Fermo questo Foam In questa posizione Qui Purtroppo non posso mettere la musichetta Perché sennò poi Youtube Me la banna E taglio L'eccedenza Del Foam Eccolo qui Lo copro Potete mettere anche Un goccetto di colla Dal mio punto di vista I dressing Del lago Ciao Luca Guarda Non ti sei perso nulla Perché io Ho combattuto Con la diretta di Youtube Per non so quanto tempo Quindi Ho avuto un sacco di problemi Aspettate che sto cercando Di vedere Ti riesco a mettere a fuoco Un po' meglio Perché non mi pare Eccezionale La messa a fuoco Vabbè Allora Questo Foam Lo potete anche Tagliare a metà Un pochettino Così Ok Perché tagliare a metà Tagliare a metà Perché Nel tagliarlo a metà Lo rendete sicuramente Un po' più morbido Lo potete anche accorciare Un pochettino Volendo Lo rendete un pochettino Un po' più morbido E diciamo che è pure Un po' più favorevole Al lancio Dopodiché Spottino in coda Spottino in coda Che vado a realizzare Con il Crystal Flash Di Textreme Eccolo qua Eccolo qua Materiale Utilizzerò spesso Noterete che Molti materiali Saranno Tra virgolette Ripetitivi In questi dressing Pro perché Non è che voglio Perderci più di tanto tempo Come penso Molti di voi Lo metto Da un lato E dall'altro Se avete problemi Di vedere Eccetera Fatemelo sapere A questo punto Prendo Il consiglio Non andate troppo A ridosso del form Perché altrimenti Vi si allarga così Il Crystal Flash Non è una cosa Fondamentale Però Evitate Si aprirà sempre Un pochettino Ma tanto bagnato Poi si schiaccerà Fatto questo Prendo il materiale Con il quale Andrò a realizzare Praticamente Il Bubi Che poi in realtà È una specie di blob In questo caso È il materiale Della Flybox Zoomare Sul morsetto Allora Aspetta un attimino Però È perché Se lo metto Troppo vicino Non c'ho spazio Per muovermi Vediamo un po' Così Ma le birre Chi le ha portate Io no Crystal Flash Colore rosa o bianco No Aspetta Ma è una domanda O è questo Che sto usando io Perché questo Che uso io È arancione Forse è orange Forse non ve l'ho detto Non lo so Si vede meglio così Quindi Questo è il Neon 15 Di Flybox Eccolo qui Questo è proprio Un colore Biscuit Chiamato così È quasi un Pesca Un rosa Un rosa Purtroppo Posso provare A spegnere la luce Magari Magari lo vedete meglio Come colore Ma dopo peggiorate La questione Ciao Lorenzo Ok Meglio Perfetto Ok Allora Per fare questo lavoro Qui Vedete che Il Neon 15 Si chiama 15 Perché è 15 mm La lunghezza delle fibre C'è anche il 10 che è 10 mm Ovviamente Più scendete Con la misura Del lamo Più dovete Prendere Le fibre Più corte Questo qui Vedete Ha la sua anima Interna Io la pulisco Un pochettino Eccolo qui E la vado a fissare Praticamente A ridosso E vado verso L'occhiello Dopodiché Tutto ciò Che dovrò fare È avvolgere Questo Materiale Questo è Un attractor Ripeto Quindi è una mosca Mosca Mi vergogno anche A chiamarla mosca Però È un artificiale Che viene utilizzato Per richiamare L'attenzione dei pesci In questo caso Funziona da Sospensione Visto che Al foam Viene messo in punta Come mosca Quindi utilizzando Più mosca Viene messo in punta Sui social Se non mi seguite Fatelo E troverete Le foto Dettagliate Di questi dressing Ovviamente Per vederli meglio Chiaramente Purtroppo Le live Non ne faccio Molte su youtube Però per questo motivo Ciao mario Allora Una volta che avete fatto Questo lavoro qui E l'avete fermato Vi consiglio di Ribaltarlo indietro Tirare indietro Con le vostre Manine In questa maniera Qui E passare Davanti Così E realizzate La testina Questo Vi darà la possibilità Come vedete Di avere L'occhiello pulito Senza tutte quelle Fibrette Che Sono antipaticissime Che vanno dentro Anche se Comunque può accadere E non è un dramma Quindi fatto questo lavoro qui Prima di rimuovere Questo qui Vi consiglio di fare Un bel nodino Io questa sera Metterò Metterò al minimo sindacale La colla Perché altrimenti perdiamo Tanto tempo Però vi consiglio sempre Di metterci un pochettino Di colla Al termine degli artificiali Quindi Se vedete che non lo faccio Io lo faccio sempre Se vedete che non lo faccio È semplicemente Per una questione di velocità Fatto questo lavoro qui Rimuovo il filo di montaggio Ecco qui E vado a rimuovere anche Il mio biscottino avanzato Lo usi con la coda affondante Intermedia o galleggiante Diciamo che lo uso Prevalentemente con la coda Intermedia o affondante Diciamo che lo usi Come quando useresti i bubi I bubi tu li utilizzeresti Per un sistema di sospensione La cosiddetta washing line Soprattutto Quindi solo per la cosetta Pesca and drop Non può essere utilizzata In solitaria Domanda da ignorante La puoi utilizzare anche In solitaria Però Se mi chiedi Il discorso Aspetta un attimo Se mi chiedi Per quale motivo nasce Nasce per pescare Con il sistema Della washing line O comunque in sospensione Allora il sistema Della washing line Vi giro un attimo La telecamera Così ve ne parlo Visto che qualcuno Me l'ha chiesto Tanto la prima È andata così Il sistema della washing line È un sistema Che prevede Deriva letteralmente Dal fatto che Stendono i panni Questo è il termine Washing line Perché si chiama così? Perché viene utilizzato Mettendo in punta Immaginate Questo è il fab Che ho fatto adesso No? Viene messo in punta Questo fab E a distanza Di tot Di parecchi centimetri Quindi generalmente Almeno una metrata Altre due mosche Generalmente si pesca Con tre mosche Con una washing line Che sono tendenzialmente Dei chironomi Dei midge Dei buzzer Che vedremo dopo Ne farò anche uno Qual è lo scopo Di pescare con questi Sistemi di sospensione Il sistema di sospensione È questo Che quando tu recuperi La washing line Questo va sotto Quando tu lasci Questo tende A risalire Il movimento Che fa risalire Questo tipo Di Di artificiale Tende a far salire Anche Poi I chironomi Che è il movimento Verticale Che fanno Quando Quando schiutono Quando stanno In fase di sfarfallamento È una pesca Che fatta con criterio Fatta nel momento giusto È di un divertente Ragazzi Credetemi Veramente tanto Perché Capita che le trote Prendano Il chironomo Proprio nel momento in cui Ricordo un uovo di pesce Questa mosca Vale per idea di emissione Ma anche per altri salmoni Selvati su pesci bianchi Diciamo che questa qua Come tutte le cose È un attractor Quindi capita che lo prendano Molto spesso E va soprattutto Su pesci di emissione In lago Quindi al fiume Onestamente Mi rifiuto anche Di utilizzare sta roba Ma se il pesce È di emissione Per esempio Molti di questi materiali Vengono utilizzati Per pescare le stilad In America Dove ci sono le stilad Perché si mangiano E gli ricordano Le cuovi salmone Quindi ci sono materiali Che se la trota Il pesce si nutre Di questa roba qua Vengono utilizzati Dicevo della washing line È molto divertente Perché con questo Con il bubbi Che comunque In realtà rispetto al fab Tende a salire molto di più Nella fase passiva Cioè quando lasci la coda Loro inseguono il chironomo Che sta risalendo Il richiamato Dal bubbi O dal fab E ti strappano letteralmente La coda dalle mani Mangiando Chiaramente sono pesci Che devono essere abituati A mangiare i chironomi Questo è il discorso Della washing line Poi ci sono tanti E tanti e tanti Sistemi per farla Tante situazioni diverse Per farla Ci sono anche circostanze In cui si utilizza La coda galleggiante È un sistema diverso Farla dalla riva O farla dalla barca Non è proprio la stessa cosa Però diciamo che Tendenzialmente Lo scopo è questo Quando lo uso io Questo qua Lo uso anche dalla riva Onestamente Senza il discorso Della washing line Magari mettendo anche sopra Una sommersa O qualunque altra cosa Voglio quando mi lavoro In sospensione Mi fermo Lui risale Mi fermo Lui risale Quando mangiano molto lente Questo può andare Abbastanza bene Questo è per quanto Per cercare di essere Quanto più possibile Completo Sul discorso Del fab Vi ripeto Sui social troverete poi Tutte le foto Dettagliate Fatte bene Le posterò anche qui Su youtube Perché non hai social Sul mio solito account Torniamo Al discorso Perché mi si è allontanato Lo zoom Ah perché se faccio Avanti e dietro Mi riavvicino Allo zoom Ho scoperto un'altra funzione Interessante di youtube Allora Utile in inverno Per pesca e lente Esatto Si può fare Allora Torniamo a noi Secondo artificiale Che vi vado a far vedere Adesso Il secondo artificiale Che vi vado a far vedere Adesso È Una mosca Sempre Realizzata Su un amo Tipo grub Ma in questo caso L'amo è Un fasna F120 Ecco qui Prego Dario Allora La mosca Della quale Vi vado a parlare È una mosca Che onestamente Ho scoperto per caso E che non gli davo Come si dice a Roma Due scudi Nel senso che Non avrei mai Scelto di pescare Con questa mosca qua Perché si tratta Di una mosca Color oliva E c'è un discorso Molto interessante Sulle mosche Color oliva Abbiamo iniziato A prendere pesci Con queste mosche Color oliva Adesso Vi metto l'amo Intanto Con queste mosche Color oliva E abbiamo scoperto Che in realtà Il mangime Che danno alle drode All'interno Dei Pasconi Quando vengono allevate È oliva Ora Che sta cosa Vi possa piacere O meno Ci posso anche stare Però Se andiamo a pesca Al laghetto Stiamo pescando Spesso su pesci Di pronta pesca E quindi Bisogna saperli fregare E fregare Significa che In questo caso Loro si stanno Mangiando Questa roba qua Perché probabilmente Gli ricorda Il loro mangime All'interno Del vascone Perché ho messo Una testina Testina Perché questa è una mosca Che generalmente Monto in punta Preferisco Come vedete Anche in altri tracing Mettere un appesantimento Sulla testa Dell'artificiale Perché mi aiuta A stendere Non il foam Dietro alla mosca Che si sta mosciando Non Mi aiuta A stendere Quando faccio Dei rollati O dei lanci A lunga distanza Quindi tendenzialmente Se posso Metto sempre Una mosca Anche un minimo Piombata Come in questo caso qua Questa è una plastic bead State molto attenti Perché con un urto forte Questa mi è successo Che possa spaccarsi Eccola qui Sono le plastichine Quelle Del decoupage Per capirci Filo di montaggio Sempre Solito Fluo hot orange Che ci farà compagnia Per qualche dressing Ecco qui Guardate che levo Un po' di roba Se no tra un po' Non ci muovo più Ok Allora Il concetto Fondamentalmente È lo stesso Dell'altra mosca Ovvero andrò a mettere Il crystal flash Arancio Nella parte Posteriore Dell'artificiale Realizzando Dei flashetti Di fatto Questo è Un ovetto Mettiamola così Mi farò perdonare Alla fine Per il dressing Nel senso che Dovrò vedere qualcosa Un po' più serio dopo Però vi posso garantire Che questi funzionano Alla grande Stiamo parlando Di efficacia Non di bellezza Metto Questo crystal flash Esattamente come l'altro Qua abbondo Un pochettino Per non sprecare Manco un po' Di materiale Generalmente Con il crystal flash Io faccio così Lo piego Su se stesso E poi Ridicando un po' Con il materiale Lo vado a fermare Così In maniera tale Che lo fermo Ecco qui E lo vado a tagliare Senza sprecarlo In maniera eccessiva Perché il fatto Che uno ce n'abbia tanto Non vuol dire Che dovete buttare Il materiale Quindi Lo copro Adesso io Ora ho fatto Questo lavoro Qui Vedete Ho fatto Questo bozzetto Di crystal flash Dietro Io ho la sensazione Che ci sia Un po' troppa luce Su questa telecamera E taglio Il lupino Che avevo fatto Vedete Ho ottenuto Questo mucchietto Le mosche belle Prendono i pescati Ma non è vero Le mosche belle Prendono anche i pesci Però Stiamo parlando Dei pesci Di pronta pesca Spesso Quindi Purtroppo Bisogna adattarsi A questa pesca qua Poi per la parte romantica Vi rimando a vedere Falling trout Quella è la parte romantica Che amo della pesca A volte bisogna essere Anche pratici Allora Il materiale Che vado ad utilizzare Per la Per la Realizzazione Di questo Ovetto È la Gold flag Ecstasy Gold flag Scusate La gold flag Ecstasy Non scioglilingua Praticamente È di flybox È un materiale Che ha al suo interno Lo faccio vedere Nel dettaglio Delle fibre Dorate Che spero che in qualche maniera Riesca a farvi vedere Perché Ecco Ha delle fibre dorate È un materiale lanoso È il materiale più facile Con cui realizzare Gli ovetti Io quando ho iniziato A pescare a mosca Variati anni fa Parecchi anni fa Per far l'ovetto Dove fare i ciuffetti 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 Tagliavi La rottura di scatole Infinita Questo invece Penso che sia Una svolta Dal punto di vista Dei materiali Per fare gli ovetti Che tanto funzionano Lo fermo Potete anche Spelarlo un pochettino Ma i crystal flash Trovo impiego Anche nella pesca Nei torrenti Sì Io con il crystal flash Ci faccio anche i perdicon E ci faccio anche dei flash Trovi dei dressing Che ho fatto anche Sul canale youtube Buonasera Ciao fabio Quindi Vado a fermare Questa Striscetta Di ecstasy Oliva L'avvolgo Molto semplicemente L'avvolgo Tirando indietro le fibre L'avvolgo Ciao Gianluca L'avvolgo Sto diventando strabico Perché tra Leggervi E guardare la mosca L'avvolgo Arrivo fino a qui dietro Ecco qui Fino a che Non arrivo Alla testina Lo fermo Così Faccio due giri Poi lo ribalto indietro Tiro indietro Tutto quanto E passo davanti Così Non me ne frega Assolutamente nulla Di farla bella In questo caso qui Vado a tagliare L'exasy In eccesso Faccio un altro giretto Un altro girino Ma siccome non è una rana Diamo giretto E vado a stringere Così Goccetto di colla Ciano acrilica Attack Eccetera La fermate così Come vi pare a voi E adesso Do una strattonata così E la taglio Ora In realtà la mosca Sarebbe finita Però siccome io voglio Esagerare Aspettino un pochettino Vedete Vi posso garantire Che questa bagnata Fa impressione Sembra veramente Un ovetto Ciao Andrea Grazie Cap Di che Luca Non lo so Mi sono perso qualcosa So così Ah forse il crystal flash Mi hai chiesto forse Tra un'oretta Darò segni di decidimento Allora Vedete Ecco Immaginate la bagnata Vi risparmio Lo sputacchio Sulla mosca Per farvela vedere bagnata Ma eccola qui Di questo colore Oliva È veramente Micidiale Forse così Si vede ancora meglio Guardate Guardate Vedete È veramente Veramente Mosca di testa Anche questa Questa sì È una mosca di testa Sì Questa è una mosca di testa Adesso passeremo A delle mosche che possono Non essere messe anche Di testa Mosca e pesca lenta Vi dico la sincera verità Con questa qui Io pesco anche Quando si tratta di pescare Con il Con il Con lo strike indicator Perché Con lo strike indicator È una pesca molto lenta E questo funziona Quindi Comunque sia Si può utilizzare anche Con lo strike indicator Questo è Quello che riguarda L'ovettino magico Fatto con La gold flag Ecstasy Di fly box Eccola qua Materiale Secondo me A oggi Inequiparabile Per fare gli ovetti Ci sta tranquillamente Di 850.000 colori 850.000 varianti Scegliete la vostra Che vi garba di più Non dovete averle tutte Chiaramente Io vi consiglio Di averne un po' Per fare gli ovetti In maniera veloce Ciao Alessio Buonasera Sto litigando con Per la serie Mosche brutte Ma brutte vere Che pescano però L'altra mosca Che vado a farvi È Una mosca Brutta vera Ma che funziona Soprattutto In determinate circostanze L'amo è sempre Lo stesso di prima Guardate N'è rimasto uno solo Me lo sono tenuto Dove si compra? Sito di Techstream Techstream.it Trovi il link Qui sotto qua Nella descrizione Del Vi lascio tutti i link Nella descrizione Del video Non vi preoccupate Funzionano I laghi del farfa? Assolutamente sì Il video Quello che ho girato Poi lo puoi chiedere Anche a Fabio Consalvi Che sta online Che Ha visto L'altra volta Che ci pescavo Funzionano molto bene I laghi del farfa Io utilizzo Mosche scure Quando Quell'olivea Quando Soprattutto L'acqua è un po' Olivastra Quindi In questi giorni Che era un po' sporca Sarebbe andata Molto bene Allora L'ultimo Ho rimasto Spear blob Sempre Un po' Curvo E grubo Come amo Misura 10 Eccolo qui Non fate i blob Per favore Suami Troppo piccoli Mi pare che si veda Molto meglio Rispetto a prima Adesso Ora Per fare questo Lavoro qui Vi faccio vedere Un materiale Che a mio giudizio È fighissimo Funzionano Con femmo Ciao Gianluca Buonasera Per fare La roba è fighissimo Ma è brutto Come la morte Che è La Gammi Ceniglie Di Textreme Brutto Non come materiale Brutto perché A vederlo Può Non piacere Quindi anticipo Le vostre Perplessità Ma è un materiale Assolutamente Assurdo Per fare Questo lavoro Qui Filo di montaggio Sempre orange Lo fermo Diciamo che Questa non è Un live Per i fighetti Anche se poi Un pochettino Li facciamo perdonare Dai Un cento piedi No Sembra un cento piedi No no È una ciniglia Caratterizzata Da questi Micro Elastichini È molto morbida E Quando le trote Fanno un po' Le preziose Al momento In cui vanno a mordere Lasciano Ha una marcia in più Ve lo posso confermare Due misure Quindi non vi preoccupate Di dei materiali Che sto utilizzando Perché sono già pronte Come finisco il video Copio e incollo Nella descrizione Tutto quanto Quindi non c'è Nessun problema Da questo punto di vista Avrete tutto il tempo Che volete Per rivedere Nel frattempo Io parlavo Continuavo a girare All'infinito Il filo di montaggio Taglio un pezzettino E lo lascio Così Questa è La mia codina Il mio spot Preferisco farlo Anche un pochino A punta Ecco qui Ci piacciono Le brutte Sì Gigi Questa è brutta Vera Però vi posso garantire Che funziona Qua dovete fare Un lavoro di fino Cioè senza bruciare Né mosca Né nient'altro Io do Una scaldata Così Sulla punta Giusto per renderla Più Appuntita Vedete Ok A questo punto Prendo il materiale di prima Ovvero La gammiciniglia 15 mm Molto 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 Semplice Eccola qua La prendo E' di fatto Un gammiblob Come lo chiamerò La vado a fermare Qui vicino Non vado molto Per il sottile Su questa roba qui Anche perché Voglio di Fare un po' Per il sottile Con queste cose qua Non ha molto senso Vado fino All'occhiello E l'avvolgo Semplice L'avvolgo Pettino all'indietro Avvolgo Pettino all'indietro Avvolgo Pettino all'indietro Tutto qui Molto semplice E' una mosca Brutta Vera Brutta Ma vi posso garantire Che in molte situazioni Fa la differenza Altrimenti non ve ne parlerai In live Non è il mio scopo Fare pubblicità Un materiale Che tra l'altro Già è sul mercato Quindi Non ha Di sicuro bisogno Della mia pubblicità Mando indietro Tutto quanto Ecco qui Sempre poi Alla fine Un goccettino di colla Eccetera 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 Che vi invito a mettere Io non voglio Incollarmi le mani In questo istante Prendo Annotatore E vado A Chiudere Di chi è questa mosca Com'è di chi è questa mosca Che intende E' una gomma Che va giù Ni E' Molto Molto Adesso La faccio vedere E' Molto morbida Cioè non è Vedete Non è Sembra quasi Veramente Un pelo Ciao Di chi è questa mosca Non so Di chi l'ha fatta Questa è una mosca Che l'ho fatta io Questa qua Vedete Sempre una spettinata Così Perché comunque Ha della peluria sotto E' una mosca Che non va Particolarmente giù Perché Sembra Gommosa Gomma Posso garantire Che non è Una gomma Che uno Può immaginare Che sembra veramente Ho trovato questa live Per caso Appena è scritto Benvenuto Si è già ritirato A posto Non l'ha ritirato Dai fai una mosca seria Stai calmo Perché sto pescando Sto facendo roba Dall'aghetto Andremo su Con No in torrente Questa non la userei No Su pesce di missione Può andare anche bene Ma non Non su torrente Mosca seria La sto facendo Perché Queste sono tutte mosche serie Solamente che sono Per pesche Diverse Ho visto che Molti Per evitare Di stradurare la colla Direttamente bagnano Il filo di montaggio Prima di chiudere con il nodo Assolutamente si Si fa Si fa Dopo lo metterò In qualche filo di In qualche nodo La colla Allora Vi ho fatto vedere Fino adesso Tre Attractors Adesso vi faccio vedere L'ultimo Attractors Dopo che passeremo Alle mosche Un po' più imitative E qualcuno avrà Anche un po' più di gioia Questa è un po' più bella Questa è un po' più bella Si tratta comunque di un Attractors Ed è un Attractors Che replica un po' Il Whiskers No vai Vai tranquillo Questo è Un Gamakatsu F11 Del 10 Va bene De stare Di destina Da ultralight Ho visto che C'è questo crossover Continuo con lo spinning Vai tranquillo Vai tranquillo Allora F11 Anzi Godi di la live E benvenuto F11 B del 10 Gamakatsu Sempre Barbless Lamo Allora Filo di montaggio Andiamo a cambiare Filo di montaggio In questo caso Filo di montaggio È Io faccio solo Pesca a Moscasi Filo di montaggio In questo caso È Il Power Thread Micro Di Textreme Color Black Che si sta un po' Massacrando Perché io già Li ho consumati abbastanza È il nuovo Power Thread 25 denari Un filo molto 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 Figo E molto Sottile Lo chiamerei Lo definirei Il filo universale Lo fermo Ok E arrivo Fino a questo Punto Qui Adesso Vado a Realizzare L'artificiale La parte di dietro Con del Marabou Color Chartret Color Chartret Il Marabou Color Chartret Ha Gli stessi principi Del Marabou Normale Motivo per il quale Quando lo andate a scegliere Quando lo dovete scegliere E Tagliare Dal Rimuovere Dal vostro Dalla vostra Piuma Dovete stare Molto attenti A quale parte Prendete Prendete Questa parte Qui Sono le Le più Fluffose Più morbide Come Come fibre Non esagerate Non ne mettete Troppe Perché Non è sempre Produttivo Ecco qua Vedete Lo uso Molto Per fare Infettando Il Marabou O Il Filo Di Montaggio Questo Ok Vedete Senza Esagerare Molto Morbido Una live Bella In italiano Continua Così Grazie Allora Eh sì Diciamo che Cerco di dare Un po Gli italiani Quello Che fanno Gli stranieri Per gli stranieri Questo mi Compromette Un po A livello Di numeri Perché Con gli stranieri C'è molta più gente Però Faccio il nazionalista Ora Fatto questo Qui Vado a prendere Il Se non riesco a prendere Le Holofibers Share 3 Di Textream Penso si Veda Abbastanza Le metto Una da un lato E una dall'altro Così Poi Ovviamente Se Se Dovesse Essere Troppo Lunga O troppo Corta Troppo Corta Non di sicuro Troppo Lunga La vado A tagliare Allora Il discorso Sulle Holofibers Un 69 Vi ripeto Tanto Le trovate Qui Sottoscritte È un discorso Che Vado A Rimuovere Facciamo Crescere Questo Canale Magari Più Cresce Il canale Più è facile Che io riesco A dare Contenuti Perché Credetemi Adesso Ne approfitto Di questa Live Starci dietro E Al di là Del fatto Della sponsorizzazione Con youtube Eccetera Veramente Da youtube In sé per sé Prendono Veramente Due spicci Quindi Non crediate Che lo faccio Per i soldi Da youtube Questa è una cosa Onesta Che vi dico Allora Youtube Ci paga la benzina Allora Andiamo a realizzare Il corpo Dell'artificiale Il corpo Che vado a Realizzare Con il Moair Moair Che è questo Questo Non sto piangendo Luca Semplicemente Poi io Veramente Sono solo Nel senso Ho La mia compagna Che mi dà una mano Spesso Che sicuramente Sta seguendo Consiglio il primo Morsetto da mosca Dato che ci devo Creare anche Assist gig Conami Molto spessi E provare a fare Qualche mosca Piombata Qualche buon sito Che tratti roba Da mosca Mi è scomparso Il messaggio Non so perché Aspetta un attimo Ah eccolo qua E qualche buon sito Che tratti roba Da mosca Guarda Ti invito A contattarmi Sui social Perché altrimenti Andiamo troppo fuori Argomento Capflyfishing Mi scrivi su Instagram Facebook E ti rispondo A tutto quanto Perché altrimenti Andiamo troppo fuori Argomento Allora Questo è il Moair Vedete È un filato Caratterizzato Da queste Fibre Particolarmente Lunghe Lo vado a mettere Qui Senza Chiappare L'altro Materiale Che non c'entra Niente Stai fermo Ecco qui Lo fermo Moair Lo utilizzeremo In due Dressing Questa sera Rimuovo L'eccedenza Perché non credo Una piccola Collaborazione Ancaldi costruttori Tipo oramai Ti con l'ur Si trattano Di autocostruzione E pesca come te È un discorso Molto Molto lungo Perché purtroppo Spesso in Italia Ognuno corre per sé E Dio per tutti Quindi Non è Non è sempre facile Ottenere E fare collaborazione Con tutti Allora Prendo il Moair E Avvolgo Avvolgo Senza alcun Problema Di quantità Potete anche Metterlo nel Bobbinatore Volendo Io Cerco di dare Un po' più Di spessore All'artificiale Torno avanti Non troppo Perché adesso Vi spiegherò Una cosa Ecco qui Vedete Ho realizzato Un profilo Dell'artificiale E vado A rimuovere L'eccedenza Ora In questo punto Qui Vado a mettere Un materiale Che avrà Il solo scopo Di dare Lucentezza E mantenere Il volume Del marabù Che andrà a girare Davanti Questo materiale Che vado a mettere È la Metal Ceniglia Un materiale Veramente poco Conosciuto E poco utilizzato Che è la Metal Ceniglia Si chiama Metal Ceniglia Perché ha Queste fibre Metalliche All'interno Eccole qui Vedete È un materiale Per tornare al discorso Di prima Quasi addirittura Un po' più rigido Rispetto alla Gamma Ceniglia Se voi toccate Questo qui O toccate la Gamma Ceniglia Che abbiamo Fatto prima L'artificiale La metal Ceniglia Risulta Un po' più Rigida Rispetto alla Gammy Qual è lo scopo Di questa Metal Ceniglia Lo scopo È proprio Quello di Mantenere in Assetto E far Pompare Il Marabù Quindi Ma proprio Un pezzettino Non esagerate Eccolo qui Vedete Pulisco Le fibre Le fermo Ecco qui Rimuovo L'eccedenza Ci riesco E In questo caso Un pezzettino piccolino Non mi era avanzato Utilizzo L'avvolgi E La vado a girare Ecco qui Faccio due Giretti Proprio Giusto per Ecco qui E Lo fermo Vedete come faccio Io tengo con Il dito Il filo Per evitare Di avere problemi Rimuovo L'eccedenza Sono tutte Mie invenzioni Più che invenzioni Sì Sicuramente Ho preso spunto Da altri dressing Che esistono Questa prende un po' Spunto dal Gummy Dal Cut's Whiskerer Che è una mosca inglese Diciamo che Molte sono di origine Inglese Tra l'altro Il blob Molto bistrattata Come mosca In realtà È un Mosca Ripeto In realtà È un dressing Che nasce Perché Dovrebbe richiamare Anche un po' L'attenzione dei pesci Quando gli viene buttato Il mangime Quindi Per quello Il blob Ha questa fibra Così Quando viene strippato Fa quel rumore Un pochettino Tipo popper Facciamo così Che spesso Richiama l'attenzione dei pesci Come quando gli buttavano Il mangime All'interno Così si dice Poi Se sia vero o no Non lo so Però Questo è Ci hanno tutte Un perché A questo punto Vado a prendere Il marabù Che è avanzato da prima Tutto quello che devo fare Con il marabù In questo caso È tirare indietro Le fibre E fare Tra virgolette Passatemi il termine Una porcata Lo fisso per la punta Così Lo vado a fermare Potete metterlo in asola Inizialmente Nei primi dressing Lo mettevo in asola Questo Il problema Che ci va più tempo A metterlo in asola A me sinceramente Per pescare al laghetto Tutto suo tempo Non ho voglia Di spenderlo Per le mosche Soprattutto per queste mosche Rimuovo l'eccedenza La copro Sennò mi scivola via Prendo Come si può rendere Più galleggiante Non capisco di cosa Parli Se mi lo dici Specifichi Ti rispondo Faccio due giri Proprio due giri Così E vado poi a rimuovere Le fibre Così Due giri Non di più Due giri non di più Perché altrimenti dopo Diventa troppo vestita la mosca Ecco qui Così Così E così Vado a fissare Questo Pezzettino qui Eccolo qui Lo ribalto indietro Faccio un nodino Per evitare che Mi scappi via Tutto quanto E rimuovo Il calamo Aspetta che vedo Ho perso qualche messaggio Non ho capito come si può Rendere più galleggiante cosa Però Vado a coprire La testina Ecco qui E faccio un giro Un nodo Un giro Faccio un nodo Ecco qui Ok Che mega volume Che da la ciniglia Si da un mega volume La ciniglia Lo scopo della ciniglia È proprio questo Cioè far sì che Nel momento in cui Guardate Io soffio Vedete Nel momento in cui Questa mosca Allora Innanzitutto Non tagliate mai Il marabù È come lo stesso discorso Del cdc Non lo tagliate mai Dovete semplicemente Al limite Strapparlo Ma io Vedete Lo vado a scegliere Di una lunghezza Che lo lascio così Immaginate che questa bagnata Diventa Ecco vedete Diventa molto più piccola Ok Lo scopo Di questa ciniglia È proprio quello Quello di Rendere Più pomposa La parte anteriore E Riconfiare il marabù Nel momento in cui Diciamo che ho applicato Su questa cosa qua Quello che spesso applico Anche sulle artificiali Da luccio Quindi questo Per quello che riguarda Questa mosca Adesso ci metto un po' di colla Se no ci restate male Che non la metto Io la colla Spesso vado a mettere La colla V Per una questa cap C'ho qualche chilometra Ghian Oltre gli ovetti Che se può fare Ci può fare il corpo Degli streamer Con le Ghian Su alcuni streamer Si può utilizzare Un consiglio Per non coprire L'anello dell'amo È di prendere bene Le proporzioni Di prendere bene Le proporzioni E accorciare Prima di arrivare E calcolare Dove devi fermare Per non arrivarci Altrimenti Su queste mosche qua Se arrivi troppo a ridosso Puoi spingere un po' indietro Che è una porcata Però me ne do conto Che all'inizio Si può anche fare Quindi È solamente una questione Di proporzione E di capacità Di arrivare Senza andare troppo lunghi Allora A questo punto Prendo un Goccetto di colla UV Metto la UV Perché così Non c'ho bisogno Che aspetti che secchi La metto qui Se volete Canto una canzone Mentre ci sono Sti momenti di silenzio La secco E ovviamente Mi accerto Che l'occhiello Sia rimasto pulito Ecco qui Vedete Potrebbe sempre cadere Un pochino di colla Fai anche qualche stream Con quello qui Si lo faccio Non questa sera Perché non è la serata Allora Eccolo qui Mosca Questa la monto Anche su un bracciolo La fate Di diversi colori Fatela Perché questo È uno streamerino Molto Molto Efficace È piccolino L'amo è un 10 Quindi È molto Molto bella Anche bagnata Brilluccica Questa Questa mi ha dato Parecchie soddisfazioni Gialla Chartret Rossa Bianca Arancione Fatela un po' Come mi carba Di più Una cosa che volevo dirvi Su questa qua È che ho lasciato Le due fibre dietro Del flash Vedete Più lunghe Rispetto al Marabù Proprio perché Va a chiudere un po' Al centro il Marabù Questo è il senso Di questa montaggio qua Passiamo adesso Alle mosche Tra virgolette Più serie Dico tra virgolette Perché non perché Queste non lo fossero serie Ma andiamo a vedere Qualche mosca Un po' più imitativa Perché le trote al laghetto Ha senso piombarlo Con l'ottone Si A volte è capitato Che con l'ottone O con la plastica Anche il tungsteno Però Diciamo che questo qua Se ci metti un po' Di tungsteno Questa per esempio Può essere utilizzata Anche al laghetto Scusatemi al fiume Questa in fiume Ci metti una testina Tranquillamente Ci peschi tranquillamente Con Anche al fiume Quindi magari In colori Un po' più Meno di reazione Però Questo per esempio È un colore Su cui i salmerini Danno molto Quindi Questa si Può essere utilizzata Anche al fiume Tra l'altro Nuota benissimo Ovviamente Il buzzer Non è nient'altro Che una sorta Di chironomo Che Compone uno Degli alimenti Più importanti Delle Delle trote Al laghetto Quando sono Un po' abituate Ed è quello Che vi dicevo prima Essere un po' Quello che viene Abbinato Con La washing line No Filo di montaggio Sempre il power thread 25 denari Black Micro In questo caso Dovrebbe essere Con quella pinza Che grandezze Diamo i copri Dal più grande Al più piccolo Grazie Allora Con questa pinza Diciamo che Ci copro Da un Senza problemi Da un 8 Fino a Un 16 18 Fino a un 18 Non ho problemi Ci riesco ad adattare Anche un 20 A volte Quindi diciamo Questa è la pinza Quella più all round Allora Sì va bene Anche per le cheppie È un artipirale Che può essere utilizzato Anche per le cheppie Allora Amo Grub Scusate non vi ho detto L'amo che sto utilizzando È un Gamagatsu CF12 BL Della misura Del 12 Generalmente I midge In realtà Sono un po' Più piccolini Però I buzzer Vengono fatti Sempre di queste misure Molto abbondanti Quindi Andremo a seguire La tradizione Britannica Il materiale principe Su questa realizzazione È il Magic Tinsel Questo è il nuovo colore Del Magic Tinsel Di Extreme Color Olive Magic Tinsel Che è presente Di due misure All'interno Utilizzeremo La parte più sottile Per fare Il Rigaggio Dell'addome E la parte più larga In maniera piatta Però Senza averlo Arrotondato Ci faremo La sacca Nella parte Superiore Dell'artificiale Partiamo Con la parte Più sottile Del Magic Tinsel L'ho stirato E l'ho reso Tondo Per questo Si chiama Magic Tinsel Lo dico a beneficio Di chi Non lo dovesse sapere Nella parte posteriore Ci sono le mie manine Che spiegano Correttamente Come utilizzarlo Tiratelo Non facendolo Riferito alle mosche precedenti Sono tutte da lago Queste qua Però Questa si può utilizzare Con qualche variante Anche in torrente Oggi Sono tutte mosche da lago Se lo lasciate piatto Resta piatto Quindi Come un Tinsel Normale Se lo tirate Diventa Tondo Questa è la caratteristica Principale Del Magic Tinsel Motivo per cui Si chiama così Questa è la misura Più piccola Lo fermo Qui sotto Qua purtroppo Piccolino Vi posso aiutare Scusate Mi fermo qui sotto Il buzzer È un chironomo Quindi di fatto Non è ciotto E non ha nemmeno Tutta quella conicità Che di solito Hanno le ninfe Quindi Non serve Andare a riempire In maniera eccessiva Ecco qui Vedete Ho ricoperto Questa parte qui Ora Tutto quello che devo fare È semplicemente Creare un'annellatura Voi la vedete poco Dal video Però Questo Magic Tinsel Ha riflessi UV E quindi Questo dà anche Dei riflessi particolari Alla mosca Vi metterò Un macro Fatto con la reflex Vedrete meglio Un chironomo Sì Esattamente Un chironomo Sì Lo vado ad avvolgere Aspire larghe Ecco qui Purtroppo Vi ripeto Qua Andate un po' A peccare Sulla visibilità Col telefonino Non vi posso aiutare Da questo punto di vista Qualcosa si vede Ma Di più Non riesco a fare Aspettate Però forse Mi è venuta un'idea Aspettate un attimino Vediamo un po' Se riesco Ad aiutarvi così Innanzitutto Fermo il Magic Tinsel Così Lo rimuovo Per evitare Che mi si srotoli Tutta la situazione Visto che Maneggio abbastanza Con telecamera E morsetto Faccio un nodino Così è sicuro Che non si srotoli Forse riesco A farvelo vedere Con Una lente di ingrandimento Vedete Qua Ecco Si vede L'anellatura fatta Col Magic Tinsel E' meraviglia La tecnologia No Ok Non si vede Un pochettino Posso avvicinarvi Un po' Di più Vediamo un po' No Ma si è capito Forse così Vediamo un po' Ma vedete Avevo allontanato Un pochettino La telecamera Forse così Si vede meglio Vedete come Si vede Un po' Di più L'anellatura Fatta con Magic Tinsel E questo Lo scopo D'altronde Ok Più di questo Vengo a portare A casa Direttamente A ciascuno di voi Ve la faccio vedere Allora Adesso cambio La posizione Del Lamo Ah ci sei Alberto Pensavo che te eri addormentato Ecco Solo vedete che succede Che ho la telecamera Troppo vicina Adesso la devo Un po' Allontanare Se no Ci sbatto Ogni due Tre Allora Vado a realizzare La parte Del torace La parte Del torace E' la parte Un po' Più Tipica Grazie Livio E' la parte Un po' Più Tipica Del 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 Buzzer Se trovassi Dove ho messo L'altro pezzo Di Magic Tinsel Ovviamente è sparito Però Passo nuovo Vado a prendere Adesso L'altro Adesso ho utilizzato La misura piccola Del Magic Tinsel Adesso vado ad utilizzare La misura Più grande Solamente che Anziché utilizzarla Stirandola La utilizzerò Piatta Quindi Ho sceso il cane Che ho dovuto Pisciarlo Sta in lockdown Quindi utilizzo il cane Per Allora Taglio Ecco qua Vedete Questo è il Magic Tinsel Dell'altra misura Quella Un pochino Più grande E soprattutto Non lo appiattisco Non lo stiro Facendolo diventare tondo Lo vado a fermare Nella parte superiore Qui Così Nella confezione Ci sono due misure Sì In questa confezione Del Magic Tinsel Ci sono due misure Se trovo la confezione Te la faccio vedere Ho fatto un disastro Viene ricoperta con l'OV Sì Alla fine Lo ricoprerò con l'OV Aspettate un attimino Che sto Inserendo tutto quanto Sì Sono due confezioni Sono scusami Sono due in confezione Eccolo qui Esattamente come lo vedi qui Un trentaduesimo E un sedicesimo Sono in arrivo In realtà anche le confezioni singole Per chi vuole Sola Questo vi do Una piccola anteprima De extrema Ora Dopo aver fatto questo Questo Magic Tinsel Per evitare che Mi vada a finire in mezzo Ai marroni Lo metto qui dietro E vado a rimuovere L'eccedenza Che farlo con Questo telefono in mezzo È tutto che dire Ok Ok Mi accerto che stia Nella parte superiore La copro Ecco qui Ok E andrò Dopo avrò questa parte Ribaltata qui sopra Vedete Ok Fatto questo Fatto questo Prendo La stessa fibra Utilizzata in precedenza Ovvero Le holo fiber E la vado a mettere qui La fisso Che vada In battuta Rispetto Al Magic Tinsel Poi vado a realizzare Quelle che sono le alette Ma in realtà Anche un po' Lo spottino Del buzzer Ovvero La parte quella sotto Lo vado a fare Con del goose biot Quindi del biot di Oka Di fly box Suo orange Colori Che potete fare Come pare a voi Eccolo qui Vedete Prendo Un pezzo Di goose biot Un pezzo Scusate Una fibra Di goose biot Allora L'importante È che parta Da sotto E vada a chiudere Verso sopra Quindi il movimento Che dovrà fare Per ottenere questa posizione È da qui sotto Fino a sopra Mi dovrò accertare Che poi quando lo vado A ribaltare in avanti Perché questo farò Sarà così Vedete Che è la posizione tipica Delle alette del chironomo Quindi lo dovrò fissare Adesso mi è spostato Perché l'ho tirato Lo dovrò fissare Di tre quarti Così In maniera tale Che Che segua L'andamento del corpo Praticamente Lo fermo Da un lato E faccio La stessa cosa Dall'altro Mosca Rissorgire Assolutamente Sì Poi Mille e uno Varianti Luca Lo sai benissimo Meglio di me Quindi Mille e uno Varianti Con testina Senza testina Soprattutto Nei mesi Scusate Soprattutto Nei mesi Freddi È uno dei pochi Insetti Sempre presenti Quindi Questo Diciamo Che con questo Sistema Qui È molto Estremo Come Attrattività Cercate Di mettere Sempre Questa Posizione Del Biot Corretta La coprite Prima che qualcuno Me lo chieda Questo è Biot Di Oca Non di Tacchino Il tacchino È un po' più morbido E più corto Come fibre Lo preferisco Per i corpi Mentre L'oca È un po' più resistente Lo preferisco Per piccoli corpi Piccole ninfe O code Ad esempio Delle sonfly Eccetera Questa è La differenza Dovrebbe esserci Già un argomento Trattato del genere Sul discorso Vanno bene I torrenti Di alta montagna Questa no Torrenti Di alta montagna Deve andare Su altra roba Cioè C'è Pescheresti pure Ma Sono un po' più Aggressive Le drode lì Quindi vanno Anche su mosche Secche Di generose dimensioni Prendo Le holofiber La holofiber Singola E La avvolgo Semplicemente Sul Torace Giusto per dare Un riflesso diverso Arrivo qui Mi fermo E lo fermo Taglio l'eccedenza Vi consiglio sempre A questo punto Di fare un nodino Perché il nodino Vi impedisce Di Avere voi Sorprese Che si sfili Tutto quanto A questo punto Prendete Il Biot Lo ribaltate In avanti Nella parte Però superiore Vedete Deve andare A finire Nella parte Superiore Dell'artificiale Perché deve partire Da sotto A sopra Qui E Stessa cosa Fate dall'altra parte Se riuscite a prenderlo Così Ecco qui Confermate così Vedete Avete ottenuto Il profilo E uno spottino Dopodiché Per evitare Di avere L'occhiello sporco Queste le tirate Un po' indietro Così E ci tornate Sopra Cercando di coprirle Così Questo vi garantirà Un occhiello Un po' più pulito Vedete A proposito Di occhielli puliti Dopodiché Però Dovete Rimuovere Queste fibre Ecco qui Usate le botte Contine al cellulare Ma Non è facile E Ribaltate sopra Il Magic Tinsel Che avevate lasciato In sospeso Lo tirate un pochettino Ecco qui Anche in questo caso L'ho piegata All'indietro Tagliate E coprite Tutto quanto Realizzando la testina Ecco qui Vedete Abbiamo il nostro Buzzer Questo è per i fighetti No Questa funziona pure Dico la verità Ecco qui Anche se la mia preferita Resta quella Che farò dopo Ora Rimuovo il filo Di montaggio E In realtà Già lavorerebbe Bene così Questa mosca Detto fra noi Però La cosa importante È rinforzarla Un pochettino Allora Prendo Prenderò La Tinman La colla di Wolf E vado a dare Un rivestimento Alla mosca Eccola qua Metterò Un po' di colla Così Mai avere fretta Nel mettere la colla Io direttamente In questo caso La metto sempre In due fasi Prima la rivesto Ecco qui Prima la rivesto Poi la spalmo Con Lo spillo E' più grosso Lamo Ok Ok Catalizzate Dopodiché Ci mettete Un altro Coccettino Ma solo Sulla parte Relativa Al torace Di nomi Di nomi Di nomi In altri Colo E' più grosso Andare bene Anche per il fiume Assolutamente Sì 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 E' di fatto E' come Una sorta Di ninfa Esistono Se prende Un perdicon Su un fiume Non vedo perché Non dovrebbe prendere Questo Che è sicuramente Molto più imitativo Ecco qui Rinforzate La parte Io continuo A dare botte Al telefono Mi scuso Ma purtroppo Questo è Ecco qui L'importante E' enfatizzare La parte sotto Che sarebbe La parte Dove escono Le alette Ed ecco qui Il vostro Buzzer Adesso io Ci ho fatto I rigami I origami I corinomi I chironomi I chironomi Sono dei piccoli Insetti Che vivono All'interno Di molti corsi D'acqua E che reggono Anche una Buona pressione Di inquinamento Quindi Sono uno Degli alimenti Più presenti In molti corsi D'acqua E anche Nei laghi Questo è Un po' Grande Per essere Un chironomo Ovviamente Ma i buzzer Si fanno Così Imini Cup Launch Your video Buddy Thank you So much Smicker Abbiamo Anche Niente Ha cancellato Abbiamo Anche Lo faccio Vedere Con La lente Ingrandimento Capire Di che cosa Stiamo Parlando Eccolo Dato dal Resto Sembra Che abbiamo Messo Tanti materiali Ma in realtà Non è Poi Come mai Una secca Di Come Farai mai Una secca Di Love your Bees Buddy Thank you So much You're welcome Una secca Di Chironomo Ma Sa Che c'è Già Sul mio Video Boh Non lo so Ce ne sono Talmente Tanti Penso Che si Comunque Non è un Problema Farla E questo È L'altro Vi ripeto Troverete Poi Tutte Le foto Andiamo A quella Che Deriva Proprio Sì Assolutamente Sì La pesca In lago È Nell'ideale Di molti Lock style No Pesca Con le sommerse Vi faccio vedere Ovviamente Una sommersa Questa è In assoluto Una Delle mie Sommerse Preferite Fermo Lamo Il filo Di montaggio Resta Invariato Sempre lo stesso Sto cercando Anche di farvi Vedere Un po' Di materiali Poveri Tra virgolette Per non utilizzare Troppe cose Diverse Lamo È Un Fasna F210 Che è Lamo Con cui Chiuderemo Le ultime Due mosche Questa E la prossima Un F210 Del 14 Allora Cominciamo Col fissare Il filo Di montaggio Sempre Power thread 25 denari Micro Colore Black Filo Che Detto Fra noi Ha scalzato Tutti gli altri Nella mia Graduatoria Arrivo Fino Alla Parte Posteriore Dove Andrò A realizzare Senza andare Troppo indietro Dove Andrò A realizzare Lo spot E la coda Spot Che è uno spot Che adoro Ovvero Fatto con Il floss Fluo Share 3 Floss Fluo Share 3 Che sarebbe Nient'altro Che seta Eccola qua Seta Che io Prendo Metto Così E poi Ribalto Indietro Ecco qui Fatto questo lavoro qui Scelgo la lunghezza corretta Dello spot Che è un po' più Della curvatura Dell'amo Non serve Vare una cosa Particolarmente Lunga Entra in gioco Adesso Il materiale per eccellenza Delle guette A mio giudizio Ovvero La gallina Questa è una mosca Che ha Nella gallina La sua arma Gallina Scura Nera Dark Come vorrete voi Prendo Delle fibre Di gallina E le vado A sovrapporre Al Al floss Qui Ok Fibre di gallina E le metto qui sopra Molto semplicemente Le vado a mettere qui E vengo in posizione Per costruire Se devo anche utilizzare Sicone Il gomme No In questo caso no Per questo tipo di mosche no Andiamo un po' Oltre la pesca mosca Dopo Taglio L'eccedenza Gallina vecchia Fa buon brodo La mitica gallina Ecco qui Come vi ho detto prima Vado ad utilizzare Lo stesso filato Che Abbiamo utilizzato In precedenza Ovvero Eccolo qua Pure il fischietto Ho fatto Se avete anche effetto sonoro Il mohair Mohair Black Intendi per altre mosche No in generale No in generale Siliconici Non sono proprio tantissimo Utilizzati per la realizzazione delle mosche Se non per parte di streamer Ma è una cosa molto Un po' borderline Mettiamola così Inutile Inutile Parlarvi già Del mohair Del quale vi ho Parlato in precedenza Vado a fissarlo A ridosso Aspettate che Ho sfilato troppo Vado a fissarlo A ridosso Delle cotine Ecco qui Eh ho visto che In settimana Hai postato Bella robetta Luca Con il mohair Sì su queste cose qua Anche su qualche ninfa Ampiamente il suo perché Ci ho messo un po' A scoprirlo Sono sincero Allora Eccolo qui Vedete il mohair Questa Peluria Comincio ad avvolgerlo Molto Semplicemente Arrivo fino A qui Mi fermo E lo copro E lo fermo Copro un altro pochettino Spazzoletta E Lo spelo un pochettino E avrò Questo effetto Sul corpo Adesso vado a Realizzare Un rinforzino Del torace Con Pavone Giusto Tanto per avere Un contrastino E una parte un po' Più cicciottelletta Fermo qui Materiale molto delicato Avvolgo Faccio due giri Giusto per Averlo E lo fermo Perché lasci Così tanto Amo scoperto Perché ci devo fare Altra roba davanti E vado a rimuovere Il resto Ok Se parli del davanti Perché ci devo fare Altra roba adesso Adesso Prendo La piuma Di gallina Con la quale Andrò a realizzare L'ecol Eccola qui Mi raccomando Sceglietela Di una lunghezza Adeguata Ah dietro Perché qua Si ferma Su leame dritti Non devi scendere sotto Vado a fermare Bene Stringendo Il Calamo Ok A questo punto Prendo La pinza Per le ecol Se la trovo Eccola qui E vado ad avvolgere La mia piuma Aprendola Quindi la apro E la vado ad avvolgere Così Mettino all'indietro le fibre E vado un po' in avanti Senza esagerare con i giri Ecco qui Faccio un altro Tanto per Questa è una mosca Che io monto Sul bracciolo E ci sono delle circostanze In cui prendono Veramente Solo lei Credetemi Quando sono Su questa tipologia Di artificiali Taglio l'eccedenza Tiro indietro Ecco qui Già basterebbe Di per sé così Come Come artificiale Però io voglio fare Il fighetto Cosa non necessaria Ma Ha il suo fascino Intanto faccio un nodo Perché Voglio essere sicuro Che Almeno la mosca La finisco così Già sarebbe Già sarebbe ottima così Però adesso Io voglio fare Il fighetto Visto che parliamo Di lock style E mosche Classiche Le ricette Alessandro Le trovi tutte Nel dressing Nella descrizione A fine video Le metto lì Jungle cock Jungle cock piccolino Assolutamente Non necessario Ma rende sicuramente Più bella La mosca Ecco qui Prendo un pezzettino Potete farlo anche In ambe due Ciao Buonasera E lo fissate Così Giusto per creare Un contrastino In realtà Non si dovrebbe Aprire così Questo Jungle cock Ma è Un po' Vecchiotto Pensate Quanto L'ho utilizzato Ecco qui Lo fissate così Giusto per creare Lo spottino Di lato Poi Dall'altro lato Fate la stessa cosa Vedete un altro Occhietto Di Jungle cock Vedete che riesco A prenderlo E lo andate a mettere Da aver pulito Sempre Il calamo Molto delicato Potete usare Anche il Jungle cock Sintetico Ma Perdonatemi Quello naturale Se faccio Questa cosa È perché Il naturale C'ha Un altro Passo Da questo punto Di vista Intendo il Floro Che attacchi Alla moschea Ah Dipende Generalmente Un 14 Un 14 Ecco qui Lo fisso Stesso sistema Che ho fatto prima Ribalto indietro I calami Tutti e due Così Li copro E vado a rimuoverli Qui E qui Ecco qui Fatto questo Grazie Questa Non è una mosca Sicuramente Che mi sono inventato Io L'ho adattata Dalle mie esigenze Ecco qui Così Non vi lamentate Che abbiamo fatto Solo robaccia Questa sera Ok Aspettate Apro un pochettino Questo jungle Che Si è piegato Sul corpo Ok Ecco qui Adesso Vado a Metterci La collina Vi ripeto Vi metterò Un po' di macro Qua e là Almeno sapete Le avete viste Fare live Sempre Un po' di Tinman Vedete come si accende Anche Lo spot dietro Questa è una Classica Mosca Da lock style Potete farla di Diecimila colori diversi Varianti Potete mettere O non mettere Il jungle cock Potete mettere Anche del biot Al posto Del jungle cock Però Toglietemi Passatemi il termine Che Con il jungle cock È molto Molto più elegante Eccolo qui Questa è una mosca Bella E che pesca Ciao Gian Piero Buonasera Questo Per quello che riguarda La classica mosca Da lock style Montata sul bracciolo Con magari in punta Stiamo parlando di una mosca del 14 Quindi non stiamo parlando di una mosca Particolarmente grande Montata sul bracciolo A recupero lento A matassina È molto molto divertente La adoro la pesca Viene chiamata in gergo Da cristia La moschetta Viene fatta chiamata così Ecco La pesca con la moschetta È molto Questa può funzionare Molto bene Anche in fiume E non vi nego Che spesso L'ho utilizzata E Chi mi conosce Sa quanto Io adoro Pescare con la sommersa Quindi questa Ve la consiglio Fortemente Eccola qui Morta Ultimo dressing Che vi faccio vedere Perché già Siamo andati Sull'ora e mezza Non voglio rubarvi Troppo tempo L'ultimo dressing Che vi faccio vedere È sempre sullo stesso amo Ed è un altro dressing Molto particolare Perché Questo dressing Del quale vi parlo È figlio Di una scoperta casuale Che ho fatto E devo dire che Ha scalato posizioni Nel corso degli anni Un po' come L'ovetto Oliva Che abbiamo fatto prima Lo metto in punta No lo metto Lo metto in punta L'amo è sempre Un fasna F210 Del 14 Come Misura E modello È lo stesso identico Che abbiamo utilizzato Per la realizzazione Della sommersa Quindi Avremo Questo vantaggio Vi ripeto Sto facendovi vedere cose Che Non Andate anche un po' Tra virgolette Al risparmio Testina Vado a montare La testina Su questa artificiale Il problema Della testina Di questa artificiale Che non la monterò In tungsteno Non la monterò In plastica Ma la andrò A montare In ottone Questo è ottone Perché l'ottone Perché è più leggero E perché Mi garantisce anche Un minimo di peso Per poter Lanciare L'artificiale E farla distendere Bene Entra in acqua Questa La utilizzo anche Con lo strike indicator Mosca Molto semplice Un problem Vai avanti Come si sta divertendo Ma sono già un'ora e mezza Allora Se vi racconto tutto oggi Poi le prossime dirette Che fate Allora Filo di montaggio Torniamo al filo di montaggio Classico Ovvero un 8.0 Textreme Olive Vado a Fare Fissare il filo Sul lamo Ecco qui Dopo mi offro Ma la mandi via posta Pensa io ancora Devo uccinare Luca Per Fiorare tutto quanto Allora Arrivo A questa Altezza qui Scusate Intanto levo qualcosa Se no Tra un po' Non trovo più la roba Cosa vado a utilizzare Vado a utilizzare Dalla Toscana E allora Deve una bella camminata Struzzo Struzzo Color Oliva Anche in questo caso Per la realizzazione Delle cote Domani pesco No domani non pesco Vado Settimana prossima Paio di volte No domani non pesco No al sabato Domenica Io evito come la peste Di andare Questa parte Questa parte qui Vado a utilizzare Quella che gli inglesi Chiamano fluffy La parte più Morbida Per la realizzazione Delle cote Quindi Diciamo che imita Una specie di Piccola Ninfa di Libellula Piccola sanguisuchetta Che è presente Prendo qualche fibra Senza esagerare Con la quantità Eccola qua Fermati Eccola qui Ok Questa L'ho usata anche in fiume E funziona anche in fiume Prima che qualcuno me lo chieda Quindi funziona bene anche in fiume Eccola qui Taglio L'eccedenza Prendo a questo punto Lo stesso materiale di prima Ma con un colore diverso Ovvero il crystal flash Small Giallo Yellow Eccolo qua Domani vado in adda Che mosca mi consiglia L'adda In questo periodo qua Sicuramente vai con moschine piccole Se i temoli si muovono Hanno piccolino Ed è anche abbastanza pesante Visto la neve e l'acqua Che ha fatto questi giorni Adesso io non conosco L'adda Personalmente Non ho notizie recenti Di questo periodo Ma Immagino che non sia Molto semplice la questione Sicuramente utilizzerei Una mosca piccola E scura In questo periodo Crystal flash Small yellow Stesso concetto Fatto in precedenza Lo fisso da un lato E lo fisso dall'altro Ok Potete anche mettere Al posto del crystal flash Le holo fiber oliva Che fanno questo Riflessetto Di lato A vostra scelta Ora Vado a realizzare Il corpo Domani vado in adda Su la quale Forse sotto al lago Intende Ora Vado a fissare Sul Come lo trovavo Vado a fissare Il rame Del rame Che mi servirà Per anellare La mosca Avevo un pezzo Già tagliato Ma non lo vedo Quindi taglierò Un altro pezzo Il rame che vado a utilizzare È un rame piccolo In questo caso Un 0 Non piccolissimo È un 0,20 mm Potete utilizzare anche Un 0,10 Prendo il rame Lo fisso In battuta Dentro Alla testina E lungo tutto il corpo Alla chiede di Alberto Vedo che lo conosce bene Ok Lo fissate Così A questo punto Vado a fissare Un'altra fibra Di Struzzo Però prendendola Un po' più su Anzi Più che una fibra Qualche fibra Eccola qua Prendo qualche fibra Così a occhio E fisso per la punta Lo struzzo è Materale abbastanza resistente Quindi Mi garantisce anche Una buona tenuta In fase di avvolgimento Arrivo qui dietro la testa Vado a incastrarlo Anche se Faccio questo lavoraccio Che a voi non piacerà Ma a me va benissimo Perché riempie E mi fermo la testina E mi fermo la testina I to tie How to tie Rock to a stick Non l'ho capita I haven't understood Sorry Sam I think you probably Need to explain better What are you talking about Allora Giro Giro L'ho ritorto su se stesso Per rinforzarlo un pochettino L'ho ritorto E Lo avvolgo Così E arrivo fino A dietro la testa E lo vado a fermare Così Dietro e davanti Questo Mi farà anche bloccare La testina Con la quale Non ho messo Né piombone Niente Ma Non è un problema Vado a rimuovere L'eccedenza Si tratta di una Ninfa Molto morbida Prendo Il rame E in senso contrario Lo inizio Ad appoggere Così Arrivo a tirare la testa Faccio due giri In più Per fermarla Così Ok E Don't trade this atom Non utilizzate queste forbici Per tagliare il rame Non mi fate prendere altre E mi fermo qui Faccio un nodino Non è finita ancora A questo punto Prendo Il mio cap dubbing In questo caso qui Vado ad utilizzare Il colore Eccolo qua Oliva L'aluginoso E mi farà La parte del torace Più movimentata Potete mettere anche Un echo Volendo Per fare questo lavoro qui Eccolo qui Il mio dubbing Non ne vado a mettere Veramente poco Ne vado a mettere Un pochino Per fare questo lavoro qui Vado a spaccare Il filo di montaggio Come spacco il filo di montaggio Prendo Il filo Lo spillo Lo metto sul palmo Sulla La punta del dito E vado a Fare questo lavoro qui Questo è un 8.0 Lo vado ad allargare In questa maniera qui E poi ci metterà dentro Lo spillo Che mi consentirà Agevolmente Di aprirlo Se ci sono riuscito io Con la telecamera e mezzo Ci potete riuscire anche voi Eccolo qui Ok Fatto questo lavoro qui Prendo Un po' di cera Togli la cera Metti la cera Il primo che mi dice Che film era Togli la cera Metti la cera Vince Un weekend con Alberto Colsani Alle terme Metto qui Questa cazzata che ho detto Un pochettino Eccolo qui E vado a twistare Carate Kid Bravo Luca Hai vinto Hai vinto Hai vinto Hai vinto Hai vinto Un weekend Alle terme Con Hai vinto Un weekend Alle terme Con Alberto Colsani Carate Kid Bravo Ecco qui Ed ho fatto Questo cordoncino Con l'8.0 Non vedete Ma il mio filo di montaggio Sta twistando Qui sotto Non esagerate Non si rompe A questo punto Con Il mio Immancabile Pettinino Lo impoverisco Un po' di fibre Più che altro Levo quelle che erano Rimaste Vedete che bel Cordoncino Che ho fatto Prendo E lo vado ad avvolgere Realizzando Il Toracino Consiglio Quando avete spaccato Il filo Si può usare Il filo twisted Si Quando avete spaccato Il filo Lasciatelo Qualche secondo Innanzitutto Adesso io Do una Mentesi Fa questo lavoro Do una spettinata Alla mosca Vedete Caccio fuori Un po' di peluria Di fatto È una vita e mezzo Fra Un micro Streamerello È una Linfetta Vi garantisco Che funziona Veramente Bene Vedete cosa fa Il filo Adesso vi sposto Un po' La telecamera Questo è quello Che fa il filo Perché era Carico di torsioni Se voi Adesso Andaste A fare il nodo Con il filo Che è ancora Così carico di torsioni Alla prima torsione Che fate sul filo Si romperebbe Il filo di montaggio E voi direste Che il filo Non è buono Che non siete capaci Eccetera E la realtà È che il filo Si deve scaricare Un po' Di torsioni Per poter fare il nodo Poi avete fatto Questo lavoro Qui Altrimenti rischiereste Di starli A rompere In continuazione Il filo E soprattutto Anche un po' Le palle Fatto questo Tirate indietro Basta un pochino Mettete un goccino Di colla Su Oggi la metto Visto che è l'ultima La metto Così almeno Non dite che non l'ho messa Vedi Alla fine In calcio d'angolo La diretta È stata utile Anche per questo Goccetto di colla Sul filo E l'andate a infilare Qui dentro Ecco qui Così bloccate bene Anche la testina Tac Ok Ok Fine Mosca Relativamente semplice Non è nulla di complicato Piccolina Stiamo parlando sempre Da misura del 14 Non mi fate ingannare Dalle dimensioni Bagnata È molto bella Si muove benissimo È resistente E vi garantisco Vi do la mia parola Che funziona Veramente A bestia Ecco qui Vi ripeto Vi metterò Tutte le foto Delle mosche Poi Nei prossimi giorni Cioè I prossimi giorni Significa già domani Che io sono Super Efficiente Anche un po' Super Efficiente Allora ragazzi Vi ho intrattenuto Per Un'ora e quaranta Grazie Alessandro Spero di avervi dato Dei Spunti Interessanti Deve risposto A le vostre domande Nei limite del possibile Se avete altre curiosità Domande O cose varie Mi potete contattare Tranquillamente Sui social O anche scrivere Qui sotto Nei commenti Dove vi ripeto Per la quattrocentesima volta Che vi metterò Grazie a te Luca Grazie a tutti Per la pazienza Scusate per l'inconveniente Iniziale Della diretta Sistemerò tutto quanto Poi su YouTube Grazie Luca Se non vi siete iscritti Al canale O siete Capitati per sbaglio Su questo video Magari vi iscrivete Così Vi supportate Per il lavoro che faccio Vi ringrazio Vi auguro una buona annata A tutti quanti Visto che Per il momento Ancora è chiusa Ancora siamo tanti In zone rosse E tante zone gialle Cogliete l'occasione Per prendere Grazie a voi Cogliete l'occasione Per prendere Ma la buccia di banana Appesa a fianco Alla scritta Techstream Evoluta Ma non è una buccia Di banana quella È una medaglia È una medaglia Che ho vinto A una gara di pesca Qual è la buccia Di banana Ma parli di questo qua Dove sto indicando Col pollice O di quello Sopra Che pollo Ma che stai a dire Non ho ben capito Cosa stai dicendo Vabbè ok Mi stai prendendo Per il culo Alberto Ma un atto Te lo pagherai Quale sarà il tema Del prossimo live Non lo so Non è che ne ho programmato Un altro di live Potremmo deciderlo insieme Farò un sondaggio Su youtube E decideremo insieme Qual è Ovviamente Generalmente i live Li faccio fondamentalmente Soprattutto di costruzione Perché è l'occasione Migliore che c'ho Per poter parlare Con voi Di questa cosa Detto questo Ringrazio tutti quanti Grazie mille Per la pazienza La vendetta alle terme Sì alle terme Travando Luca Di giro Streamer Potremmo fare anche streamer La prossima volta Come no Volendo sì Quindi parleremo di streamer O di ninfe Di secche Di quello che volete voi Non c'è problema Da questo punto di vista Va bene Grazie a tutti quanti Vi auguro di nuovo Un buon 2021 Che sia meglio del 2020 Visto che è la prima diretta Che facciamo Porta il bichini alle terme Bichini l'ho guardato Il bichini è andato Tu e Alberto Ho trascorso un'ottima sera Con tutta la prima del mese Grazie Dario Mi raccomando Like Iscrivetevi Per favore Perché è l'unico modo Che poi ci avete Per supportarmi Va bene Vi saluto Un abbraccio a tutti quanti Andate a pesca Ciao